Si tinda avanti ai cancelli della Tiberina di Cassino da parte dei lavoratori aderenti alla RSU della Wilma. Una protesta che nasce dalle mutate condizioni addetta del sindacato all'interno dello stabilimento, uno dei più importanti dell'indotto FCA. 18 contratti interinali che non verranno rinnovati, ma anche e soprattutto un mancato rispetto verso i lavoratori ed il sindacato. Questa la denuncia. Calpestare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, carichi di lavori insostenibili, riorganizzazione del lavoro che purtroppo non ha interessato perché è stato sottoscritto un accordo da una maggioranza di RSU e da una maggioranza di organizzazioni sindacali. All'interno di questo sito non si vive più quella tranquillità naturale che si deve vivere per poter lavorare, per poter produrre. E ci sono poi dei casi limite. All'interno dell'azienda purtroppo ormai da diversi mesi continua ad esserci una grande rivoluzione solo ed esclusivamente per escludere il sindacato da tutte le discussioni. C'è la messa in discussione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono state chiamate tre impiegate full time. Allora è stato detto per evitare il licenziamento vogliamo fare con voi un contratto part time, quindi ignorando il sindacato. Giovedì ci sarà un incontro ma la Wilm non parteciperà perché ciò che l'azienda dirà è chiaro. Lo sciopero continuerà perché vogliamo risposte vere e serie. L'azienda ha indetto un incontro per il 13 di questo mese, e cioè giovedì. Però tutto ciò che ci doveva annunciare lo sta praticamente già mettendo in atto e quindi credo che sia seriamente inutile fare questo incontro. Le azioni del sindacato non si fermeranno. Oggi a parte i volumi sono venuti a mancare anche quelle che sono il rispetto dei lavoratori. È una cosa che non può essere più tollerata in questa azienda e cerchiamo ancora oggi delle risposte serie e concrete che ci portano a realizzare quello che negli anni abbiamo creato.